Ok, facciamoci l'ultima Ingegner, supporto, scout Attenzione, l'obiettivo Foxtrot è il mano nostra Eh? No, 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 metti io dopo, no, no, no Piazza, un po' di C4 Ho individuato un cecchino Buono, 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 cecchino Eh, due cecchine l'ora inizia Buono, buono Facciamo fare un po' di festa, va L'obiettivo è bravo, è stato conquistato Cecchino avvistato Facciamo fare un po' di festa, va Uno Piccolo nemico localizzato Due Ho individuato un cecchino nemico Obiettivo Delta è neutralizzato Tre Ho individuato un aereo nemico Ora ci troviamo l'obiettivo Delta Vedo la montagna in avanti Ho sparito i cecchini La madonna Atto con un cecchino nemico Stai tornato Che cazzo è? Guarda Atto con un cecchino nemico Attenzione Obiettivo Bravo Attention Oh Serie fermata Campioni No, il primo era 7-0 Sarò arrabbiato Soldato nemico Contatto visivo Abbiamo perso il controllo Ho individuato un cecchino Su inizio eh Ho individuato un cecchino Cazzo Sai che mi spari Sì Ho scarizzato un elicottero nemico Ah ma mi ha visto eh Che cazzo Di fucile sta usando questo qua Ma che cazzo Eh un bel fucile a ripetizione Tutto la madonna 1,2,3 No Eh C'è un po' di brinno Abbiamo il controllo dell'obiettivo Delta Attenzione Obiettivo Alpha è stato neutralizzato Obiettivo Alpha è stato conquistato Statto visivo con un soldato nemico Abbiamo appena perso l'obiettivo Delta Vaffanculo anche te Guardalo di dove era Cazzo Ho individuato un cecchino nemico Guarda questo dove è Ancora con quel fucile Ma dai Ripetizione Che minchione Statto Statto Ma lei è cazzato Non ho capito Non ho capito se quello lì mi vede Porca troia Mi hai diventato vicino Mi hai diventato vicino Però sei già morto Non controlliamo Di l'obiettivo Alpha Spostati Ascoltate l'obiettivo Alpha è sotto il nostro controllo Attenzione Ho evitato un mitragliere nemico Passo Ho avvistato un mitragliere nemico nell'area operativa Passo L'obiettivo Foxtrot è neutralizzato Intatto visivo con un soldato nemico Vittima Foxtrot è stato conquistato Vaffanculo Ho un elicottero nemico nel mio campo visivo L'obiettivo Alpha è stato perso Abbiamo appena perso l'obiettivo Foxtrot Ehi Ho individuato un cecchino Ciao Cattionic Ho visto un soldato nemico Ho localizzato un cecchino Vedo un veicolo nemico Occhio Indubituato un mitragliere nemico Passo Che cazzo di fucile usa quello lì Spara tre raffiche Il tipo Foxtrot è appena stato neutralizzato Contatto visivo con un cecchino nemico Ho individuato un cecchino Ho individuato un cecchino nemico Ciao Cattionic Come Non Ehi, ho localizzato un cecchino nemico. Ehi, questi qui sono incazzati neri, guardalo, guardalo. Ho visto questa, perché mi piace troppo questa mappa qua. Ho localizzato un cecchino! Che sono andato? Un cecchino avvistato! Ascoltate, abbiamo perso lo che tu ha! Ehi, vedo un cecchino nemico! Ehi, ho individuato un cecchino! Ma quello lì ha un... ma non è un'arma quella lì! Non è normale che spara così in fretta quello lì con un cecchino! Lui è un bagato di merda! Come usa i trucchi, sto coglione? Ho individuato un cecchino! Ho individuato un cecchino! Mappa, guarda qui! Guarda che cazzo di fucine che ha! Non l'ha comprato! Ti sparo in mezzo alle foglie, coglione! Bella, bella! Guarda che idioti che ci sono di là! Ho visto un soldato nemico! Cioè, non so quanto a te li ha ammazzati eh! Scusati! Scusati! Dato nemico! Contatto visivo! Ho individuato un cecchino! Ho individuato un cecchino nemico! Guarda, una a sinistra o una a destra? Guarda qui! Una a sinistra o una a destra? Eh, andiamo! Ora controlliamo l'ambientivo eco! Guardalo! Che cazzo di arma ha quello lì? Ascolta, abbiamo appena perso l'ambientivo eco! Ho localizzato un cecchino! Ho localizzato un cecchino! Ma come cazzo? Guardate, SR338! Questo qui è bugato! Ho localizzato un cecchino! Ma come cazzo? L'ambientivo eco è stato conquistato! Guarda, guarda! Ma che cazzo mi spara quello? Ma che cazzo di arma ha? Ma non è normale che arriva a mille metri qua e spara a cazzo quello lì? Guarda, guarda, guarda che razza di arma ha! Ma siamo normale! A ovest della tua posizione attuale! Veicolo nemico! Ma porco! Ma che cazzo di arma ha usato! Contatto nemico! Contatto visivo! Guarda, guarda! Ma che? Io non so che la cazzo di arma l'hanno presa quella arma lì! Ehi! Ho individuato un cecchino! Bella! Ah! Ti ho trovato brutta merda eh! Vedo un cecchino nemico più a nord della tua posizione! Guardalo! 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 Mi riconfero nemico nel mio campo visivo! No, tardi! Ho individuato un cecchino! Uno! E' l'altro perché ti sposta eh! Merda! Nel nord della tua posizione ci sia un cecchino nemico! L'obiettivo Echo è stato appena neutralizzato. Ciao ciao! Questa me la segno! Questa c'è un gramma! Minchia! E fermati! 147 Questa me la segno! C XD Questa ma la segno!! Sì, grazie, abona! E poi leta in spesione! Questa è la nuova! Grazie a tutti